ok gindobre a tutti gente iniziamo con la prima sessione polacca di stefania sempre dobre piaccia stessi apposca stefani abbiamo seguito i punti di dorota e ci accompagno da contando da 5 a 1 a connetterti più in profondità a dorota un cedro teo slam e trasporta stefania starota 5 4 3 2 dimmi come la vedi povera mia che è un video dorota la vedo in germania vita trotta finita la vedo con un cappello quelli invernali che coprano anche un po le orecchie di tilana insomma le vite nata che ci si muove ector la sacrava taxa usa e la vedo come un uomo io sono stasno che sta camminando per questa questa città che è sicuramente tedesca migliorare poi dicevo un po c'è sto miasto a crescita per nomi a stanni mezchi e posso proprio dire che è il tempo della seconda guerra mondiale comunque precedente io sto crescita che fai ok ti dà l'autorizzazione se la diet e posso farla anni anastasi attacco ok partiamo subito e vediamo se questa è la vita in cui dorota inizia ha sognato tante volte di essere un capo o addirittura un capo all'interno di un campo di concentramento e nello spunto fare da rotte che non portava bussen di accoglietti con testa siniva a capo lo becchia stanza è un segno ricorrente che ha fatto dai 4 ai dieci anni parecchie volte c'è stata una sana si è postato allora fa parte delle delle stesse e non ha no a non è all'interno di un campo non è tra i prigionieri non è stato eletto diciamo tra i prigionieri mister tempo voce concentrazione in esterno si si no la giusta verso al compito di girare per i campi che guida proprio gli esperimenti guida i laboratori cosa danni mi ha fatto una bocca contro la vita scotta di certe collaboratoria uomo donna e uomo yes master snow come si chiama jackman ai miei sento frederick 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 e alto su più o meno 1 75 1 e 78 e cogeo srosta come scelta di sandocia e longilino e molto in questa vita è molto arrabbiato molto mi viene da dire cattivo ma molto arrabbiato e non ha rimorso io sto parto sto poi vita sull'altra mi sbattata che c'è qua e veniamo ok quanti anni ha la malatta può averne dai 37 e 40 o coach di sti c'è tanto tardi stilato vedo che ha due figli a casa due figli maschi ma anche una moglie ora sono vedo che non vedo che a casa c'è anche un papà suo padre che è malato problemi salute e vive spesso a casa con loro invitata rosa stanza mandò muestroni a cieco oicettore ma problema stravato noi all'interno sanno se non c'è ragina ok vai a un momento importante della vita di frederick tavola esce da che questo punto un valparmico punto vedo la malattia del figlio nel figlio più grande fezzaro per gustarsi costana e successiva l'immagine che ho visto per cui si manifesta all'incercato dieci anni dopo della visione che ho e tacco roba questa manifestazione c'è da pia rosa di scienziata scantante fisica trontra si trova quello che sviluppa che che ha che gli viene è un come una leucemia fulminante tacco roba attoressa poi avevuta cos'è ma c'è anche di scienziata test partita costra torna bia vacca vai alla fine vita di frederick tavola c'è tra sda con sarre c'è con una strada sì ci sono cosa avviene sa se c'è si uccide si spara usavi uscire uscire usapia scolati che hanno è 3 troppo il vedo nel 1947 tecianze di venti a tutti i testi giorni quindi la guerra è persa e lui si uccide perché non vuole farsi catturare ci arriva in ascia da controva io non papà mio sono questo faboni che ciò con i sconsa franzi riscata next one no no lui era riuscito a nascondersi dove si uccide per quello che ha visto miei ammuta voce un crunch stampa voglia la sabbia si è data con potenza la tratta sabato rimorso c'è la fine patrocinina ok e in germania quando si uccide si chiamiamo i due figli di dorota e li mettiamo nel cinema tutta la sua prossima la nostra cocina poi castanotte rota ci sono saperi i due figli uno dei due figli era nella vita di frederick c'è c'è sennò fiano pietan snicko bari tassi fritri ha mi viene da dire che uno era un paziente gli etan snicko pazienta un ragazzo giovane nuota un copacchio e il figlio malato di leucemia no no oggi attacostano a fare con amico allora mi chiesto se o se uno dei due se i figli di dorota sono facevano parte di quella vita uno dei due figli di dorota faceva parte della vita di frederick come persona all'interno di un campo del campo lo paziente tante moglie nello spazio tema bosch concentrati e non posso aggiungere una cosa che era un ragazzo giovane nella vita di frederick era un ragazzo che era lì nel campo a cui hanno fatto delle prove fisiche ebbe un modo un copacchio tema bosch e concentrati in vita morose una testa dico c'è la fisica c'è la prova no sperimenti esperimenti 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 è rimasto in vita poi dopo io un po tempo salta no bosch ma è stato uno dei motivi insieme alla malattia del figlio malato per cui si è ucciso il figlio malato di frederick e nella vita di dorota faccia tanta corina piavaccia senza triccia mi viene da dire che il padre di dorota poi a femmici informarsi al solato che sto ricette da rotta e vivo si registrava poi in azione della tapps tecnico no sono morti entrambi a sono morti però la chiama lo zio come primo se però poi ha detto se fosse vera però che strano che chiami lo zio è un padre caccavo fa caldo ciascura siamo voi cani per secolo i nostri anni rogito se ci può scrivere in skype perché ha chiamato lo zio in polacco tu lo leggi e lo traduce c'è tutta tua dita lo vedi come fumetto non devi aprire la chat lo vedi ok molto prima relazioni aveva già fai un copposto niente c'è 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 luce sì sì no no stiamo aspettando aspetta aspetta ok sì non ti sentivo più intanto magari fammi con la cosa che avevo chiesto sì ma ti dico ti dico solo una cosa io vedo che quel padre c'è stato un rapporto molto difficile non so se la risposta che l'ha lasciata l'appartamento non riesce ad averlo ok e traduce che ha avuto un rapporto molto difficile tra stefani approfittava la vita da rotta salita mia macchina scherzo c'era lazio ok cioè il padre li ha lasciato un appartamento in polonia io zio allo zio a scusa scusa e e lei non riesce ad averlo se c'è qualche problema non riesce ok tra mentre con il padre dici stefania un rapporto conflittuale non riesce conflitto stato da rotta stefania vg dice di sì ok superta ok allora più o meno vibrazione di dorota vediamo da terra ci metrò sotto i pranzi e comodo rotta allora vedo 80 miliardi 100 miliardi percentuali di consapevolezza però tanto scatta mostri cento per cento poi ci fanno scatta mostri sta però tanto psp e dorsai ciao a terra cina dorsai torna fa caricato test 70 la ps 30 la p e dosa c'è tanto però tanto giusti d'occo vite precedenti rito parretto da rota mila e settecento di chance adamsat percentuali di cervello e pro tanto usa vanna con musco 5,5 piance cina che piange però tanto dota è interferito a interferenze c'è da rota ma interferenze c'è da rota ma vedo un felino e tac vita interferenze salino ita vedo militari vittoria voice cover anche che passano attraverso i felino di poi vedo un uretiliano vita italiana una non che le sembra un anfibio non seria non si vioi ea che si traccina anfibio e casposta ci sono esseri di luce ciascuno è stata scritta 2 da via ok entità mentali è stata mentana allora ne vedo una che viaggio da dal 2 livello 2 a livello 4 gli esterni è stata mental noi a una spina poi c'è niente trocchi ma a farti e ne vedo un'altra questo è livello 3 gli esterni è stata mental non spaccia molto cieco che vediamo cosa basta si fanno queste entità mentali interazione a papà tu hai stata mentana allora quella che vada a livello 2 a livello 4 agisce così da sposiamo che la campione stacemente trovi ma farti in gioco sotto la stampa e onza è come se lei ogni tanto le prenda una paura inspiegabile che lei non si spiega che la paura di fare del male agli altri come se anche se la collazione del momento magari è contraria e magari sta aiutando qualcuno sta cercando di aiutare qualcuno le viene come un pensiero come un'immagine a volte o la paura che se non fa quell'azione lì di aiutare potrebbe fare del male e come se delle volte lei si impegnasse a fare del bene aiutare qualcuno per evitare di danneggiarlo o di mettere in atto quello che è il pensiero che gli è venuto in quel momento e già sta mi starà c'è guarda c'è star a pomozzo te o sopia unic non c'è cotta un paese di cuore ci sono impianti ci sono impianti allora c'è un impianto lo vedo a livello del seno destro ci si sei stefania si no hai disattivato microfono scusate ok sentite siano destra io ho sentito uno destro ieri ma in plant grave ai pierci a metà del seno destro quindi non davanti non dietro ma a metà all'interno e questo entrano i cristiani in esodo anni in estetico fa se non c'è la corte poi c'è un altro a livello della tiroide e scola in in planta naposiani e targezza lucio puoi chiedere a dorota se mette la mano dove nella parte che nomino cioè se ogni volta che noi veniamo un impianto in un punto lei può fare mettere la mano tacchetta caposipata la tasa cominciamo in plant ministro quadro a tampone temo mancetto femmina stefania ok la aiuta a connettersi meglio la famosa stefania ponte mi aiuta anche a creare un ponte più rafforzato tra il corpo eterico e il corpo fisico e lei lei ha la possibilità di sentire meglio subito di ciò abbetta one c'è tappo di attacchi mosca mente c'è matarecina in fisica cina mi tappo voti alla cia ponte anni è stata ha messo la mano sulla sala adesso che sul seno poi sulla tiroide di traslava colizza tarchezza un mese 20 a livello della mascella quindi lo zigomo sinistro fa colizze totale politica e tra vago scorsi politico va che comprende anche la sinistra o la sinistra che comprende anche l'arco dei denti sopra rovnias città un corno con notte in tempo fa e muoia rovnias e poi lanca sinistra ora piotrò forse 2 anni prossimo la campioccia chi ha messo questi impianti statamo messi ote implante allora lo vedo che è una parte la parte superiore la messa l'anfibioide che si che oggi augurna un trance città tai stata sata i ragini anfibioido e invece quello dell'anca l'ha messo il il marittiliano a esserci oggi o donna un testo rateri anni ok nome del progetto di dorota chiacca il nostro progetto sattori siano tanto strato la io leggo drop dr o p troppo trascinare no dottare giù torre giù non me dico far cadere a trascinare a no buttare giù drag e trascinare drag and drop quindi la fanno cadere la buttano giù oppure può essere anche una goccia d'acqua ma io vedo quando avete detto anche goccia vedo collegato no al sangue troppo vegeta la stata i propri amosani e scopriamo che non si può fare c'è la sua propria voce niente ha chiuso per trovare stafania va bene vediamo la causa esoterica della attuale menopausa e non so gli anni di dorota insolita la sua menopausa terra spiore messe meno pause c'è la taftora in normandia ma la pausa testa in poi a paolo c'è nesta spai cofieco se siamo invenuta facciata 70 allora io vedo che all'immagine che mi arriva l'immagine di una donna di una donna anziana poi avvi poi avvenisce opera star c'è copia te l'immagine di una donna anziana che vedo che le 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 parla il fit è stata copiata da ogni movie è come se le suggerisse di di non avere dei cinti non avere molti figli ripete questo messaggio il rispetto al procreare ita copia tag per suggerui adoro c'è questa cianco di shop to wab e torata animiamo a ceci a ben che ne aveva potomstria non capisco chi è questa donna anziana chi mi sta stascia copietà e come se fosse una donna che lei ha già incontrato ma l'ha incontrata sul piano eterico tacco pietà da rota spattaccavata un copio te lo schede sarà l'apposiammina terreno è come se fosse mi viene da dire che in un'entità però potrebbe essere anche tipo uno e di l mostro che faccio tutte le cose si tocca ma è stata ciclistata un suo pacco dorota è come se in eterico avesse questo messaggio di smettere di di che sul sistema ormonale deve cambiare deve cambiare cioè doveva cambiare c'è stato un cambio ormonale è mai stato collegato a questi incontri in eterico comunque questa con questo dl questa che ha creato come dire un movimento a livello ormonale del corpo c'è creato come una frequenza da capetta spot cani a tempo c'è mettere una vita adesso questi con la tampa tagliano sostegni stotte e abbiamo vivo e c'è un cosmi anni ea che scena passiamo mia hormonal uta rotta va bene causa esoterica dell'anemia c'è nella sottoreccia anemi e perdite di sangue e fa bene questo è legato lo vedo è legato al progetto le partite di sangue e l'anemia vita tattoria certo è proprio il progetto ma troppo troppo anche legato e come se in particolare si manifestasse quella parte la parte dell'anemia delle partite di sangue quando ha un calo liberazionale tanto fa probleme poi avevamo c'è un'istra con le roman check the parto spada ii liberati attualità con i miei tocco fa viene in particolare quando ha una situazione azione e pensati di non poter far nulla sta con il nesta che è stato a tecdon a mesi e jane sta negli trovi c e ok e stefania che cos'è a livello simbolico con il livello di archetipo cos'è il sangue all'interno della matrix è trasta che per tania c'è mister cref una posizione a tecpo posa matrix a mente usci il sangue lo vedo come come la vita di archetipo è una posizione archetipo profite cref jacob c'è cioè tosnatto cioè come se attraverso una goccia di sangue si potesse creare una vita tosnatto c'è che per pop class crop lacrì morse una pepe uova creva una cosa c'è alcune cita lo fanno iniettore è stato e taro bian alcune entità attraverso la goccia di sangue stringono degli accordi iniettora istotte pop shes croplac si esagerai un pact è come se dal sangue strappo lassero l'essenza della persona tag a best e c'è un cari c'è un cavo e tristate assenze tra i doni a sopra perché alcuni animali si mutono di sangue come i pipistrelli vampiri l'attacone 380 c'è così a 14 totesimo fa ogni etapa gioco vampira ma vedo che all'interno del sangue per i pipistrelli ad esempio c'è è come se ci fosse una parte all'interno del sangue che loro interessa non tutto il sangue come fosse la parte una parte del partire una componente del sangue per vedere sapato con i toppers e tocca intera sui avevano scritto con gli atti gli italiani squattica castro con gli atti città i crfi quale cittura concreta per i pipistrelli o per i vampiri cioè è come se i pipistrelli si nutrissero di una parte all'interno che fosse una tipo una vitamina una l'opera non riesco a vedere il nome c'è una sostanzia nesta nesta finita seconda che accorbe così vitamina tampo più rava testa che cosa ci sono va bene non importa causa esoterica di problemi alle articolazioni di mani e ginocchio problema se stava mi ha avuto rotte codi o renza e colana allora questa è una parte sempre legata al progetto di nuovo del non riuscire a stare su del sentirsi del sentirsi cadere nel sentirsi tirata giù ma in particolare quella delle ginocchia la vedo collegata a dunque una cosa legata a uno dei due dl aspetta aspetta scusate ma trasforma ex term proiettente che con la chancla che stanno patava un po gemi evitata giamata se chiamata che ci stanno assisto famigli sistemi e come se da quello che l'immagine che vedo c'è stato un momento della sua vita in cui è venuta a contatto con una credenza una religione in particolare e vedo che è durata qualche anno quattro cinque anni evitata o cresta che faccio da rotte che c'è far soft contact sia conoscenza con seroli che non sa che mi si chiamiamo e come fosse proprio il discorso delle ginocchia collegato a al doversi al forzarla ad inginocchiarsi it and problems con la nami dott'acqua vittata ecco torsio smusha padavano anna colana avanti a chi ingegnerarsi per pregare davanti a questa credenza che religiosa che ha che aveva incontrato il movimento totalizzato è stato inviaggiano terli che tratta casa i modi c'è stata un clenco ok orecchi tappate causa esoterica se ce n'è usata regina sat cane cusso allora qua ci vedo il come diciamo che una forzatura legata al fatto di non sentire chiaramente quello che arriva dall'esterno ma essere solo molto concentrata con invece quello che pensa lei quello che vive lei ma torsio s'ex teme per una fama che si può uscire ad ottenere con ii e teni a terco concentrato facciata una strada con la nostra in fronte su mesi e come se ci fosse un filtro proprio due filtri uno per orecchio che non le permette di diciamo non vogliono permetterle di avere messaggi chiari dall'esterno e quindi di cambiare anche idea sulle cose da capire nato a filtre bussar mi posso fare un certo c'era toni informati c'era vado nei per negrotta io sacco mania c'è messa tante che ci sono stati giocciati e questa parte delle orecchie la vedo legata a militare in discorso i militari idrotto vota il problema social mi invitato thais sciata un po i scopi sovrappeso problema svago il sovrappeso lo vedo collegato al discorso della del cambio del cambio e vibrazionale quando praticamente lei va giù di vibrazione c'è questo cambio di sistema ripeto la frase mi spiego meglio allora il momento in cui c'è stata questa questo messaggio della parte ormonale di cambio vibrazionale questa parte cui è andata anche ad incidere sul discorso del peso per cui è come se aspetta aspetta una tasca tecnica fatto nel mio sogno in vibrazione che stanno smiando una pagina hormonal e come se lei trattene e aspetto le trattenessero ma in parte ripeti ripeti perché nota via la voce e come se trattenesse e come se le sue cellule avessero facessero l'effetto di trattenere ma soprattutto acqua vedo che c'è molta acqua e tacca la pagina che c'è tanto stacca c'è come i comuni che ci avevano esatto come faceva va bene anche se lo facciamo adesso lo potevamo fare all'inizio chiamiamo i due figli nel cinema la prima da chi la nostra cosa se l'olta rota ma i figli erano già entrati nel cinema e quando erano entrati io li ho visti che si abbracciavano cioè che sono entrati abbracciati sennò che io sversi trascinando da chi naig di tamperetti fija o bai ma fallisce ci sono solo loro sono tante coni vedo che ci sono dei cugini dei figli dei cugini già sono cose gni ora da rotte ora si s9 per cosa ok li lasciamo lì chiamiamo i disincarnati allora lo zio e i genitori e tutti quelli che vogliono venire dei parenti di dorota anche quelli che non conosce cosa sta fanno alla sette tanti sono finita si resta raggine schini tra svaro ai me smarrò che passiva da rotatori voi ca i rocci sofia ora sta colpe che sta in perciò c'è tanto poi a fitch sì ci sono ci sono alcuni stanno arrivando tac per stare c'è stato poi lo zio e prima prima di tutti ci sono i genitori dietro cos'anni ma sono raggizzata rota poi vedo dei dei suoi antenati di vita che c'è una coppia da rota ma poi vedo anche che si è affacciato vedo anche suo figlio c'è il figlio di di frederich c'è sì allora il figlio del 47 e il padre di dorota però ci sono tutte e due in una manifestazione sono tutte e due lì poverissima facciata ora non abbia fatto che sento il rischio test oi c'è in riferimento anche all'appartamento che lei non riesce a conseguire ad avere e tra secca si ha domaciato voi ha da rotta i rocciani a scoste mia scania un'anima usata la stanza data come scania allora sta dicendo lo zio dice che felice di vederla prima di tutto che lui ha finora seguito quello che hanno fatto i suoi figli c'è visto quello che hanno fatto i suoi figli italia sono scelta uscite a moda te poi conosciuta mozzarabili ieri se novia che ne è molto felice che vede che mi dice così come che sono più che sono maturi ma che sono responsabili e poi mi sta dicendo una cosa sulla casa e dice che c'è un problema rispetto alla casa che però per essere risolto deve essere seguito da me lo spiega ma potrebbe essere un geometra potrebbe essere un proprio un tecnico perché come se ti faccio dire il tico geodontamo viaggiata il problema ma se lo stiamo sana alla tampa ciò che si fa avete che il tecnico c'è anche un problema di misura che non corrispondono con come posso dirla con la foto la planimetria quindi c'è da sistemare una parte proprio tecnica tanto oggi apporto la zona che stessi tecnici ma che si fermiare il sogno di casa è uscita da plano vita ma che si fa cofizzo che ho dettato si coppa cofano se va poi nienta un vasto che science che quando lui ha pensato di lasciarle la casa il tema stavolta ma per tentare casa la pensata proprio per lei perché lì ha pensato che potesse anche essere felice c'è stato sta ricevendo una stessa o che le servisse per raggiungere i suoi obiettivi dei suoi sogni al bosco è morto tanto un po solo cia per essere riserva la sfoglia della sfoglia masagna però mi dice che sarà così il muovese di usata factor c'è stagna il padre e la madre lasciano un messaggio a c'è raggiunta la tasa sta bene così che da mostro allora intanto vedo che fisicamente il padre di questa vita e il figlio di quella vita è come se si fossero uniti in uno stesso corpo diciamo e tra svizzera te noi c'è trotte i tanti se ne faranno abbia fatto che ci sono postati a terra sapere quanto non siamo via non via non posta la mamma è sempre stata molto vicino al padre in questa è quello che vedo sempre molto come se il padre la dovesse guidare diciamo in vita ma marta non so c'è bua bar da brisco ho ritratto rotate il papà che parla e dice che lo sa che lui e lei non si è sentita completamente capita da lui il terrestre ma fiatato movie sono via già però tagliato a scopo vici rosomiano e che il suo modo di essere anche a volte duro e torsare cota che su rove sposo giaccia beccia voleva solo essere un aiuto una spinta perché diventasse forte o ne ho scuso c'è da nipota però tappo tempo a scelma anche se adesso ho capito che non era quello il modo giusto per lei alla trassi una crosa mi ha già togne vota con sa dopo sposo nato a pacco trotto che le dice che le manda un bacio che l'abbraccia il movimento la poteva e buccia caipto lion la mamma è d'accordo su tutto e fa solo così con la testa fa sì con la testa ma ma su casa c'è stascia scrivita neanche fa cuore lasciata qui ok abbiamo portale auro li invitiamo tutti ad andare lì se vogliono sia i tre principali che tutti gli altri tot forse matera sotto e porta al class marro e ficta cove che tanzano sota nico fai sto stato entrando cosa entrando come se si unissero con la luce e per quanto a tutta che questo sponsorisce a 30 e mentre c'è il portale auro aperto vedo che stanno arrivando e stanno passando molte altre anime e pensamento ha cercato un portato a misto nata la parte video per far parte fiera in nord uscita sta vedo che sono le anime di persone che frederich aveva conosciuto e aveva conosciuto nel campo del concentramento frederich santo so pectore frederich snota la voce a concentrazione che ha ucciso la sua pectore non sa più su cui ha permesso degli esperimenti non posso farla faccia tra fata non ogni experiment lui non ha mai ucciso nessuno direttamente però non ha fermato decenni quello che stava succedendo ma non sapesse nico con gli esabili da spazio le cose si aveva fatto un numerale va bene chiudiamo il portale quando sono entrati tutti sono passati si è chiuso o si ha scritto mi ha sceso me come in san calice ma ok causa e tutti ricca dei sogni con un abuso sessuale e cola in e ponta rotes non ho nato allora io vedo che c'è proprio un una come fosse una anima un'entità che che la disturba di notte fidetta mia con si porta c'è consista attrazione ma sacco 6 poco il fiore si c'è una persona un'entità che dice si mostra in molti modi diversi e ma che le fa capire che è sempre la stessa e tu una torna torna attacca è nata movimenti posta al secco razza la stessa è stata un'altra modifia da diciamo che dna possiede via che te la matata è stata e vedo che un disincarnato questo la vita c'è sto cosa per smart way niente portale via la porta lì in posto fa messico devo approfittare del portale auro ma come lo abbiamo chiuso ma mia occasione sapete un festa sotto ecco portarlo vale così stessi cosa un carissimo sguardo solo chi era in vita uno stupratore cosa passate ne è stato bevuto a cercare che si fa un ciccio prima invita e li piacevano i bambini tra un pedofilo non attacca la potevamo se c'è in voto a pedofilo infatti lei l'ha incontrato quando era in incontrato cioè questo uomo era in vita quando era piccola e lei l'ha incontrato ma lei era in compagnia per cui lui non non ha fatto nulla una porta di che scambi decota un spot cava alla porta del tavolo secca cosci in naga pensano i miei mortali c'è donne in dosta disinternato via vera mettiamo scusa luce portale qualunque neanche cose che porta ogni si taccherà quindi da dorota controlla mi gli impianti di al seno quelli insomma percogli chirurgie di chirurgia estetica è stata affiata c'è una implanta da rota entrambi di entrambi i seni sì ma si vedeva che uno è disturbato dall'impianto al seno destro che ho visto prima tacca la prova tra vai piaci da potermi in planta con l'amore di ciascuno e vedo che sono col come posso dire sono entrambi i seni sono a posto quello di destra infastidito dall'impianto che c'è nel seno destro la metà in fita jack o petri pierce per ok ed è in attenta che pra papiere si fa sinistra bussana tanta situata temi in planta ma che roma finisce ma ma che diciamo che il fastidio ce l'ha in particolare da quando ha il discorso della della menopausa alla tempra abbiamo un cuore tutto esce poi avevo incertità una certa menopausa poche infine causa esoterica della paura dell'acqua e te la scopo cimata con l'inaco punto stracato foto io vedo l'immagine allora mi collega l'immagine che ha raccontato prima di quando è caduta nell'acqua terra svolta c'è stato un fisico di troppo che tavolo si è piaciuto più vedo che quando l'è caduta nell'acqua da piccola non è caduta entrata nella contraria nell'assima marzo esatto quando è entrata nell'acqua e poi sprofondata quando è sprofondata è come se fosse stata tirata giù per un piede vedo ita stana chiede da non profeta varia portuosa c'è un cano ha provato un sostanzio ferro pizzer tamposta c'è con storia non c'è un canino sa stop vedo come qua io ci vedo un anfibio un anfibioide un vettacone figlio vita che ha proprio interagito sulla sua parte fisica cioè tirando laggiù interferò se c'è un fisico non facciamo non sia un franco è il motivo per cui ha paura dell'acqua e che ha il ricordo di di questo essere che la tirava giù e lo collega all'acqua è stato a una testa che abbiamo già sfondo non facciamo scadono ok c'è qualche residuo energetico di quell'episodio persona che sposa stavo sti in arcata c'è un po tanto da sogno sì dire di sì comunque in una parte del cervello c'è proprio un ricordo profondo che non emerge ancora di quella parte che ho detto e anche sul piano sul piano energetico rimasta una traccia va bene come vedi dorota cosa vuole fare ea che la stessa presentata rota e tra un'altra tra la dorota guarda mi sta portando mi sta portando facendo vedere un posto e a terra star a casa per una ministra croccia mi può casa che in realtà era un posto della vita di frederich io sto ministra cia frederichia e sta aprendo le porte di questi campi otterrata ma boccia sta liberando tutti e uvagna per la società scritta in modo che sia tutto vuoto tutto vuoto non c'è più nessuno adesso interessa terrasse animata amico con il stampo stop stessa stario voglienico ciao a troppo a casa cittatropici ma sono tutti disincarnati l'abbiamo già fatto avrei stata di l'esma è stata smarva questo lei mi spiega che non è tanto una cosa fisica per lei è importante toglierlo c'è il fatto di aprire le porte non ha tanto una valenza un'importanza come dal punto di vista pratico perché sono già non c'è più nessuno lì all'interno ma che questa cosa ben d'aspetto ai passi in tac fa tecnico giotto tagliota che practicino fermi arte copa fa che ci non stavano stavolta stavolta profonda un arti esplani e samaneta che tacchi actor ma che questa cosa ha lasciato anche in questa vita una traccia molto profonda e il robot poi nevasse tanta stato azia parzo che fa un po che è stato stati varnei e lei non ha potuto farlo come frederich ma ha voluto farlo come dorota andiamo a quattro cosa la pizza tema stasman è andata che facciamo a tutta ita troppo almeno in modo simbolico per liberarsi totalmente da questo ricordo sono inietà che simbolici ne ha sposto proprio stacoviccia uvoli ci siamo tante trauma ok benissimo prima di andare al cluster con dorota guardiamo velocemente la scintilla la polonia che salva il mondo tutta la testa sanno in cui chiamata castra 6 ma è un argomento molto in voga in questo momento si polacchi pensano di avere quella marcia in più che permetterà al mondo di uscire da questa situazione in cui ci troviamo polazzo messa un parto riant covi sotto questioni curato e uscita ma allora io sopra la sopra la polonia vedo una rete energetica forte cioè vita not post con schieno shock l'architecto che anche proprio legata questa credenza a lei stanno facendo parte c'è ne proprio la nostra miscia con anni entità mentale collettiva la è stata mentale una collaterno si dire di sì tac ok c'è anche per i rumeni tale io stacca è stata padorna istico georomono no ma ce n'è un'altra per i rumeni la logist romoni in oscola istota mentale quale ea captura che dice che come se fossero imbattibili museo non sarebbe ogni po con anni c'è la sensibilità mentale per l'italia uochi aiut e casi stata mancanna da fuoco che la polonia o che la romania agliati dall'italia lavori in italia ma è detto c'è la stessa rispetto alla mentale collettiva a una in italia salverà il mondo e si cogeva fuoco testa quadriata sa mai stata mentale nazionale posta voci no 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 non ce la vedo andiamo ok ma va bene niente c'entrilla quindi probabilmente il percorso personale come sempre nessuno salva nessuno ognuno salva se stesso nessun paese salva il mondo nix nico con ecco l'animo lo spaventato molto per questo ma vi c'è messa ammazzata al crani amore spaventino anche se fata ben percorso personale si è stato mi cerca individuando costa cosa andiamo al cluster e seguiamo dorota tau time c'è tratta castra potono santa rota sì ci siamo gli aspettiamo sarò p lo vedo come come fosse uno di quei negozi un po antichi che hanno tanti cassettini come quei negozi di una volta le farmacie di una volta che erano diciamo quelle che presenti in legno con tanti cassettini con dentro le erbe in sé che i prodotti un fita stena sta messa commissione più famiglia anziata con un down up the case della finale meta che mi soffa da mi e lei sta guardando in molti cassetti così io non sa che l'onda tanto russo sofflato sì un po perché curiosa di vedere cosa c'è dentro è un po per cercare contratti prestavo poi c'è capo stancato che sta con l'onda c'è resta papà nero stavano state a contratto adesso sta tirando via tutto c'è anche a trascosta che non interessa cercare dove sono i contratti ma l'interessa puntare via tutto ma visioni interessa ogni interesse è un suo cane il contratto porta con una chieda né a trattata ma faccio che c'è scappata cercherò via tutto scatto di ora ha fatto infatti io sono trovata falle vedere come tu crei una d'eterno ma per te stessa o per usarlo in altro modo anzi magari crea lo quella base a quella cosa che ti ho detto donnavo c'è un terra secco ad eterno mentre tu lo fai lei guarda come tu lo fai a te taro per stanna c'è un sacco l'onda topia anzi in realtà non lo fai tu ma lo faccio io no sì sì io sto dividendo gli spazi in qualche modo le si sta occupando di del cluster ma può vedere quello che io faccio lei l'ha fatta intanto io sto troppo va sì 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 non ha messo in alto ma visto l'hai fatto ho messo a tanto figurato a tarno con calcio lei l'ha messo lei l'ha messo l'ho messo in alto ok andiamo all avatar sa che c'è mai si lo vedo ma finché lo vedo che è come se fosse un un adesivo sopra un tavolo così piegato così piegato testa che squarciano è nata la storia come porta con una carica un sacco io non date costo ok che fa si lo saranno tirando via terra sottereva ok vediamo se da sola fa quello che deve fare cosa faccia me testa matera strappettazione da già tanto tra piaccia ciazza tra piaccia e applica quello che ha appena imparato e c'è la società c'era una cosa c'era un altro ricrazia dacata torno ecco l'hai detto ma vabbè la brittoria tim polacco e sta creando uno molto grande rompita craoietà d'eterno mi sparta un patto tosham è fatto io sto arrivata va bene con queste nuove condizioni c'è ancora qualcosa di energetico nella vita di rota i trascolti e capaci nel farò un carter aspetta cose che stai appoggia meno che faccio la narcotrata si è scrollata di dosso tutto ci fosse piaccia scopo c'è ancora il capo chiamiamolo così anche se c'è ancora frederick c'è la certa frederick dice nelle vite precedente precedenti modo oggi cosa c'è appoggia l'aerogio ecc sì 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 nò che si nasce nella vita precedente allora io lo vedo ancora via nadar cofitta però non in quella veste lo vedo che ha capito come se avesse cambiato ruolo tante roll it off minus fai un roll a terrasse lui di base era un medico e vedo che non collabora con i campi ma vedo che vada dei pazienti e vita terrasa ogni prezzo e nipo prezzo e tantissimi nazista meter coppa posto da riuscire mania con la casa paziente ok quindi ha cambiato una vita vediamo quante sono le vite precedenti adesso c'è l'esminio saperna sbaglio c'è teresa pace mail as a stavore moderato 1500 trassi e state chance pienso da faccia vibrazione attualna che brazza da rota 185 miliardi stava cento cento miliardo consapevolezza facciamo scelta mosti cento cento settanta per cento stascia d'amici cento pro tanto gli sp e dos hai troppo una paga 58 per cento la ps dosa trase spingi santo sempre o tanto e per cento di cervello e però tanto giovanna conosco netto 6,2 scena che fa però tanto i figli cosa fanno c'è roba sennò via da rota sono ancora seduti sono guardando sono nata laschini secondaria c'è non quello che i figli nel fisico possono dire alla madre la madre lo saprà cosa dicono in vecina e trire con la madre tazza beppo figliere in a planificazione da rota c'è tutta la casa parla via a cieli per povericinata in panina torre c'è mamma mia allora intanto quando hai detto i figli cosa fanno io li ho visti che guardavano e lo schermo inizialmente mi capita invece sennò sta portando come avvigiavamo la parte finita mentre poi più grande si è girato a sorriso a 80 anni star c'è il più grande sta dicendo che lo sa che spesso l'idea delle preoccupazioni in movetano star c'è un vero chassami spravi che stamp roschi dice ma è questo anche il bello di avere dei figli alla testi e master un po sette for fa passata anni a 10 messa messaggio di dorota a se stessa teta terresta inviato a mosce ad usata rotata rotta poi aspetta perché il figlio più piccolo dice fa così con la mano fa mamma ti voglio bene ma la pila l'hanno presa ok bene prima del messaggio si è una prima del messaggio di dimostriamo la pillola e tutto poi è stato casamento picco c'è un grazie ai farmaci a scelta morso devo dire che sono molto vivaci ci sono molto simpatici interattivi e dicono possiamo scegliere il colore da prendere uno la vuole prendere solo blu e l'altro lo vuole prendere solo rossa dice possiamo che sceglierci colori c'è ma se vedo che scherzano non son parto tazza rosa entusiasmo vani tampa stiamo sceglierci passere i francesi prezzo per color dei piccoli moviata non riesco ma trovista c'erano diciamo che rossa e meglio di blu servo mai slap shot le hanno prese tutte le hanno prese tutte vic quindi però volevano un po giocare la mamma è vestita di rosso e dita è vestita di rosso e tu hai una luce rossa così darà di darò tra gli occhi la gronda della tag buona c'erano è detta che stavano c'erano scatua fin fisca possa rifinire piaccia rosano il colore sono gli occhi di dorota color da notte color fai colpo c'è terni boschi non verdi però c'è l'ona verdi verdi gelone e verdi gelone poi un po con una fetta di gelona melone bene bene messaggio giornale messaggio è stata rotta allora dice prima cosa finalmente ci siamo arrivate finalmente siamo arrivati qua muovi po piersa la sconso totale dotare di smith quanto a tutta che sta certo in punta dice anche se all'inizio rititubante teri e in dubbio se fare questo percorso come vedi siamo arrivate siamo arrivati a a concluderlo gli acriti e sperato da contesto data con la città come come se dicesse che gliel'ha detto per ricordarle che ogni passo compone la strada e movita pota bps a pogni e saccar the croc che c'entra chi che anche se lei spesso dorota spesso vorrebbe arrivare da a dal punto a al punto z subito e poi mi ha usato rota c'è vabbè sabis droga out punto adosate la tecnica sta sperimentando anche nella sua vita che ogni passo ti avvicina a arrivare all'obiettivo santo sciatica si fai usati usa card troppo croc post vala d'oro e dici e da cui possiamo ripartire e muovere stacco punto un tamo sabbett.com punto start ok come la vedi la canta la sfida che sorride us mia casa la vedo che sorride stringe un po gli occhi un po così come una smorfia per dire per dire sì sì non so comunque la vedo bene la vedo bene la vedo che era era etericamente anche un po contratta un po un po chiusa in se stessa ma adesso vedo che si sta allargando come se si allargati si espandesse va bene abbiamo finito a tornare in cata vada povrato sì ok allora disconnetti da tutto e tutto